Quando avevo undici anni l'unica cosa che mi importava veramente erano i videogame. Mia nonna mi diceva, è per questo che ti sei bruciato il cervello. Così ho trovato un modo per continuare a giocare, in nascosto. Così, non so, non so, non so. Stanno arrivando, stanno arrivando ragazzi, stanno arrivando. Grazie a tutti.